L'identità della salma che per anni è stata sottotitata a Montelepre, dovrebbe essere quella del bandito Giuliano, c'è intanto una tesi che avvalora l'ipotesi che il bandito sia rimasto vivo da quella notte di Castelvetrano, perché sembra che la procura stia indagando per verificare le dichiarazioni di un ex agente dei servizi segreti che nel 1971 avrebbe accompagnato dagli Stati Uniti in Sicilia il bandito per partecipare ai funerali della madre. Per lo storico partenicese Giuseppe Casarubea è opportuno l'intervento dell'FBI. Un agente dei servizi segreti avrebbe accompagnato dagli Stati Uniti Salvatore Giuliano ai funerali della madre Maria Lombardo, che si sono celebrati nel mese di gennaio del 1971 a Montelepre, quando il bandito avrebbe avuto 48 anni. La procura di Palermo che sta conducendo le indagini sulla morte di Giuliano avrebbe già sentito le dichiarazioni di quest'uomo, il cui nome resta top secret, una leggenda che da anni circola a Montelepre e che oggi troverebbe una sostanziale conferma, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Lobbianco del Fatto Quotidiano. Il bandito di Montelepre non sarebbe stato ucciso, ma venne fatto fuggire negli USA dalla CIA. Il super testimone sarebbe un settantenne vicino in passato ai servizi segreti. Dopo le sue clamorose dichiarazioni raccolte dai magistrati, coordinate dal PM Antonio Ingroia, ora la procura procede con i piedi di piombo per verificarne l'attendibilità. Dice di essere stato in stretto contatto con Giulio Andreotti e di essersi occupato personalmente dell'operazione Giuliano. Un'ipotesi che, se confermata, potrebbe avere dei risvolti importanti nelle indagini. Tanto che lo storico partinicese Giuseppe Casarrubea, che insieme al suo collaboratore Mario Cereghino presentarono le esposte in procura per fare chiarezza sulla morte di Giuliano, ritiene opportuno l'intervento dell'FBI, l'Ufficio Federale di Investigazione Americana. Dopo la riesumazione del presunto cadavere del bandito al cimitero di Montelepre, avvenuta lo scorso 28 ottobre, la procura non ha ancora ufficializzato l'esito degli esami del DNA. Abbiamo letto sui giornali che c'è stata questa audizione, è un elemento importante delle indagini. Questa persona, che è mantenuta nel segreto, è una persona che attesta di aver accompagnato Giuliano a Montelepre dagli Stati Uniti a seguito della morte della madre del Giuliano medesimo e quindi di averlo poi riaccompagnato nella sua dimora. Quindi è tornato dopo la data ufficiale della sua morte. Certamente, quindi è tornato dopo la data ufficiale della sua morte ed è ritornato, ripartito, accompagnato da questo agente dei servizi segreti. Questo dichiara questa persona che dal tribunale di Brescia, credo, è stato ritenuto fonte attendibile. Quindi è una persona di cui i tribunali, quantomeno quello di Brescia, si fida perché ha fatto dei riscontri, suppongo. Quindi è una persona credibile. Nel caso in cui questo indirizzo dovesse essere positivo, dovesse dare qualche risultato, chiaramente a quel punto bisognerebbe coinvolgere l'FBI per ulteriori ricerche. Io credo che sia ancora prematuro avanzare una richiesta di questo genere, però non è da escludere che in futuro ci possa essere un ulteriore prosieguo delle indagini nella direzione indicata da questo agente segreto. Questo comunque accredita l'ipotesi che ci sia stata la complicità dello Stato. Certamente, la complicità dello Stato in tutta la vicenda di Giuliano è presente già dalle sue prime origini fino alla fine. È presente durante gli assalti alle caserme, è presente durante le fasi stragiste di Portelle del 22 giugno, è presente in molte altre circostanze.